Ciao, perché è importante il detox? Andiamo a vedere insieme un esempio pratico e in particolar modo questa immagine della pelle del corpo di una persona particolarmente intossicata. Quest'analisi è stata fatta con uno strumento specifico proprio per l'analisi della pelle e in questa immagine possiamo vedere un eccesso di cheratina, infatti mi mette cheratina alta e la pelle è particolarmente disidratata. Se seguirai questo video fino alla fine andrai a scoprire come fare per detossinare anche la tua pelle e andremo a vedere insieme proprio come come è il risultato finale. Ma parliamo un attimo di che cosa sono le tossine. Le tossine sono degli scarti del nostro organismo, e possono provenire da alimentazione, da farmaci, gli scarti normali del metabolismo del nostro corpo, possono essere anche radicali liberi visti proprio come un qualcosa che non fa bene al nostro organismo. Andiamo a vedere come possiamo andare a detossinare la nostra pelle. Il primo metodo naturale che la nostra pelle ha per liberarsi delle tossine è proprio il sudore. Attraverso questo meccanismo andiamo ad espellere proprio le tossine, tutto ciò che non ci serve più. Ancora possiamo andare a utilizzare degli scrub, dei peeling che aiutano a eliminare le cellule morte, proprio piene di cheratina che non servono più e che anzi magari crea una pelle proprio desquamata anche di aspetto poco bello da vedere ma anche poco salubre perché poi una pelle eccessivamente secca, desidratata ed esquamata tende poi anche a creare delle fissurazioni e comunque anche problemi che possono comportare anche dermatiti o comunque prurito della pelle causa proprio di questa eccessiva secchezza. Andiamo a vedere subito uno di questi elementi importanti per aiutare sia a fare uno scrub sia andare proprio a detossinare la nostra pelle e sono i sali. Vediamo tre tipi di sali, dei sali marini, dei sali invece di roccia e i sali di Epsom. I sali marini, in particolar modo quelli del mar morto, sono dei sali bianchi di grana abbastanza grande ma possono essere anche macinati che hanno un'azione detossinante importante grazie a tutti i sali minerali che contengono, sono dei sali integrali quindi non sono stati raffinati e grazie proprio a questi sali minerali come anche il potassio, il magnesio, il calcio e oltre al sodio chiaramente aiutano a portare fuori i liquidi, aiutano a drenare il nostro corpo e quindi permettono alle tossine di essere incanalate nel sistema di reni, vescica e quindi chiaramente di essere poi espulse dal nostro organismo. Inoltre hanno anche la caratteristica di essere molto utili per chi ha problemi di pelle come la psoriasi o le dermatiti, dermatiti atopiche e sono molto utili anche proprio per il rilassamento muscolare di tutto il corpo. Ancora possiamo avere invece i sali di roccia come il sale dell'Himalaya che è un sale rosa molto utilizzato oggi anche in cucina quindi non solo per uso cosmetico, fatto da questi granini colorati che sono proprio ricchi di sale minerali e di ben 84 oligoelementi. Quindi è un prodotto veramente unico nel suo genere e con questo sale possiamo andare anche a creare la famosa maglietta di sale. In poche parole si prende questo sale e si va a sciogliere in acqua creando una soluzione salina al 3%. Si va a immergere una maglietta di cotone in questa soluzione salina e poi la si indossa e si va ad avvolgere il corpo anche in una cappatoio in una coperta in modo da permettere da favorire una sudorazione naturale del corpo e si resta in posizione sdraiata quindi in posizione comunque rilassata per almeno un paio di ore. In questo modo il corpo comincerà a sudare quindi a spellere in modo naturale le tossine. Questo è un metodo che va un po' a sostituire il mantello spagnolo di Knaip, un metodo molto semplice che si può fare anche a casa. Ancora abbiamo i sali di Epson che è il magnesio solfato eptahidrato. Questi sali molto piccolini e di gusto fortemente amaro possono essere utilizzati per uso interno proprio per una depurazione dell'intestino profonda e invece per uso esterno sono ottimi proprio per andare a fare scrub e bendaggi al corpo proprio da azione detossinante e molto utile anche per chi ha contratture muscolari perché hanno un'azione proprio mio rilassante. Questi tre sali possono essere utilizzati insieme per andare a creare per esempio uno scrub che va a lavorare in questo modo sulla detossinazione, sul rimineralizzare la pelle, sull'andare a esfoliare la pelle e anche proprio sul drenaggio e favorire la sudorazione. In particolare ho creato uno scrub fatto proprio da questi tre sali che si chiama Trimineral Scrub e che contiene anche burri e oli che in questo modo da una parte abbiamo l'azione sia meccanica dello scrub che l'azione osmotica del sale che aiuta il drenaggio proprio dei liquidi del corpo. In più c'è anche tutta l'azione nutriente dei burri e degli oli che va proprio a nutrire la pelle e l'aiuta proprio a ritrovare una naturale elasticità. Lo andiamo a vedere in modo un pochino più dettagliato guardando le immagini del prima e del dopo una pelle particolarmente intossicata che è ricca di cheratina. Quindi vediamo una pelle con una parte desquamata di pelle, vediamo proprio queste zone più bianche che rappresentano l'eccesso di cheratina e una scarsa idratazione proprio perché abbiamo una pelle scarsamente nutrita, poco idratata, anche se vado applicare una crema passerà poco questa emulsione, andrà poco a nutrire, a reidratare la pelle perché c'è uno strato di cellule morte molto importante. Inoltre c'è poi il rischio di fissurazione quindi rischio comunque che questa pelle si possa rompere, formare dei taglietti anche dolorosi oltre che possibili ingressi anche per batteri. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare in modo molto veloce e veramente in pochi minuti di trattamento, andiamo a cambiare questa pelle, andiamo a massaggiare il trimina scrub direttamente sulla zona e in questo modo i tre sali di Epson, Marini e sali dell'Himalaya vanno ad avere un'azione meccanica sulla pelle, in più i burri e gli oli hanno un'azione idratante e nutriente e andiamo subito a vedere nell'altra immagine sempre della nostra macchina della pelle che fa un'analisi accurata, andiamo a vedere da una parte che non c'è più tutta questa cheratina e quindi la pelle ha di nuovo un aspetto sano, naturale e questa sfogliazione ha permesso anche agli oli e ai burri di penetrare e di ricreare nuovamente un film idrolipidico corretto e vediamo che l'idratazione, la nostra sonda la segna proprio come ottimale, quindi abbiamo veramente in pochissimo tempo raggiunto il risultato e abbiamo detossificato la zona e l'abbiamo anche reidratata. All'interno di un percorso detossinante è importante anche l'idratazione tramite una crema e una crema che abbia però dei principi attivi che vanno a lavorare anche sul sistema linfatico e quindi vadano a favorire il drenaggio dei liquidi che è un altro meccanismo che ha il nostro organismo proprio per espellere le tossine. Ecco perché consiglio sempre di abbinare a uno scrub specifico una crema specifica che sia proprio detossinante e come la crema cellulite per esempio alle alghe che va a lavorare su vari aspetti. Se vi è piaciuto questo video mettete like così vi preparerò dei nuovi video su nuovi attivi detossinanti per la nostra pelle e per la nostra bellezza. Ciao a presto!